Il tema delle partecipate sta tenendo banco nello scacchiere politico retino, nuove acque prima e poi estera in seconda battuta. Donati, c'è molto per riflettere? C'è molto per riflettere perché queste aziende hanno un compito importante, erogano servizi pubblici essenziali e poi la risultante sono le bollette che ogni giorno i cittadini vedono arrivare a casa. Devono essere quindi aziende che devono essere gestite con grande oculatezza. Invece qui sembra che l'unica cosa importante siano i posti, le poltrone, cioè la parte forse più deleteria della politica. C'è un dato oggettivo però è in atto un processo di unificazione in Toscana e davanti a questo Arezzo come si può? Beh intanto ancora non l'abbiamo capito. Abbiamo però capito che nel momento in cui viene nominata una persona da bene in un Consiglio di amministrazione importante, un retino, arriva la protesta da parte di Coingas, del Presidente Scortecci e forse non l'abbiamo capito bene anche da parte dei sindaci. Nel momento in cui vengono messe persone che sono abituate a gestire aziende e hanno competenze, il territorio si rivolta. Noi non riusciamo a capire esattamente dove vogliamo portare queste aziende partecipate e soprattutto dove le vogliamo portare all'interno del processo più ampio che sta avvenendo in Toscana. Anche su Noveacque non c'è stata chiarezza, c'è stato un rinvio? Sì, un rinvio tra l'altro che vede la concomitanza con l'episodio di Estra e il fatto che Coingas abbia deciso di non partecipare all'approvazione del bilancio. Questi rinvii continui ci fanno pensare che non c'è accordo all'interno delle forze politiche che governano la città e non solo, che governano anche ampi territori della provincia e quindi si rinvia lasciando queste aziende senza una guida e lasciandole in incertezza. Grazie a tutti.